Veramente un lieto fine, avevamo ipotizzato se potesse trattare di una leggerezza e forse così è stato. Le notizie non sono molte, le circostanze almeno del ritrovamento, non sono ancora arrivati i dettagli di questa vicenda. Però abbiamo conferma che i bambini sono stati ritrovati, i bambini stanno bene, tutti e quattro lo ricordiamo, perché due gemellini di cui è stata denunciata la scomparsa di sei anni erano insieme a questo Costantino, quest'uomo di 30 anni che si è allontanato con loro e anche altri due bambini erano con lui, bambini che erano stati a lui affidati dalla mamma o dalla nonna, comunque dalla famiglia di questo bambino che aveva fiducia in quest'uomo. Ore di ansia, ore di tensione, anche perché si è parlato del mare ed è probabile, ci hanno confermato anche i carabinieri, non appunto dilungandosi per ora in dettagli che i bambini, tutti e quattro i bambini insieme a questo Costantino, a questo trentenne e al fratello abbiano trascorso una giornata al mare. Però voi immaginate qual è stato lo stato d'animo che abbiamo più volte ascoltato, ai quali ci siamo avvicinati più volte durante il corso della giornata di quest'uomo, il signor Vasile, il padre di due gemellini che ha visto scomparire i propri figli davanti al cortile in cui da diacono stava concelebrando la messa per una festività peraltro molto sentita, perché questi bimbi stavano giocando in un cortile tutti insieme quando poi non sono stati più ritrovati. La pista del mare è stata la più gettonata, la più battuta nel corso di tutta la giornata perché un vicino di casa aveva riferito che Costantino, così appunto si chiama questa persona, aveva deciso oggi di trascorrere la giornata al mare. Quindi chissà, una leggerezza forse di questa persona nel non avvertire i genitori, almeno quelli dei due gemellini, chissà quale altro ingranaggio ha fatto scattare in quest'uomo un'azione non certo lineare rispetto naturalmente al fatto che non ha informato i genitori. Certo è che si è temuto per questi bambini, che si è pensato a un esito diverso di questa vicenda, che la notte è calata su questa vicenda quando le notizie sembravano nulle, i telefoni cellulari di Costantino e del fratello erano rimasti a casa, quindi erano irreperibili le ricerche fatti con cani, fatti con elicotteri e naturalmente è stata battuta tutta Roma, come voi avete detto, è stata una caccia all'uomo serrata oggi per tutta la giornata e così anche la costa non aveva portato a nessun esito. Invece siamo lieti appunto di dire che i bambini sono stati trovati, i bambini stanno bene, i genitori, signor Vasile e la moglie sono qui nella caserma dei Carabinieri, nella stazione dei Carabinieri di San Basilio, qui hanno avuto questa notizia, noi aspettiamo qui per vedere se riusciamo ancora una volta a parlare con loro e stavolta con serenità.